Ciao a tutti i corrieri del gaming, bentornati sul mio canale e oggi vi porto il primo video e l'inizio della serie di Rainbow Six Siege e volevo fare una premessa prima di iniziare il video, ovvero che non parlerò nel video ma per un semplice motivo perché il Rainbow, l'audio gioca un ruolo fondamentale per chi conosce il gioco, quindi sentire i passi dei nemici, i rumori magari di gadget possono servire per, a me, per solo uccisione ma anche gli alleati e soprattutto per magari portare a casa una vittoria quindi vi porterò un semplice gameplay senza il mio commento però nel video taglierò le parti nuose, quindi magari il band degli operatori, il band delle mappe ma porterò solamente ogni round che sia attacco o difesa di io che gioco ovviamente con la mia squadra detto questo andiamo al video grazie a tutti 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 ciao guerrieri del gaming